In occasione della prossima seduta della Sise regionale, tra i banchi della maggioranza siederà Antonio Inaurato, che entra a far parte del Consiglio al posto del dimissionario Camillo D'Alessandro, eletto alla Camera dei Deputati. Politico di lungo corso, Inaurato ha ricoperto il ruolo di amministratore unico dell'Ater Lanciano Vasto, è stato un funzionario della CGL e ha indossato la fascia tricolore in qualità di sindaco di Gesso Palena. Che tipo di esperienza porta in aula? Soprattutto il rapporto che ho sempre mantenuto con la popolazione, con i cittadini, con gli amministratori, con i sindacati, diciamo la capacità di dialogo. Questa differenza vorrei marcarla, cioè ritrovare il consenso attraverso la capacità di aggregazione e di consenso che guardano agli interessi di un territorio, non di una piccola parte. Io sento alle mie spalle la montagna, la montagna madre. Al mio orizzonte vedo il mare, però diciamo ci sono tante colline, quindi Olivetti, ci sono Vigneti e soprattutto c'è una importante area industriale dove io mi sono formato, dove io ho dato tanti anni della mia vita e che mi hanno dato l'opportunità anche di essere qui oggi in Consiglio regionale. Ecco, che scelte si sente di fare, di poter fare in prospettiva futura? Ma diciamo portare a punto l'esperienza diretta, fare il sindaco, essere presidente per tanti anni di una comunità montana, di un ambito sociale, significa stare a contatto con la gente e quindi con la popolazione, ma soprattutto creare le condizioni per non guardare al proprio particolare, ma per avere una visione più ampia. Scelte importanti nel campo del lavoro, della formazione, ma soprattutto le scelte che riguardano l'interesse collettivo della popolazione.